anticamente due razze dominavano la terra umani e mostri un giorno scoppiò la guerra fra le due razze dopo la lunga battaglia gli umani vinsero il conflitto no, un pochino mi dispiace sigillarono i mostri sottoterra con una formula magica no, i mostri molti anni dopo no mt ebot 201i le leggende narrano che chi scala al monte non faccia ritorno quindi sappiamo già che c'è un personaggio che è andato sapevo ecco, trova scala al monte trova il buco dei mostri a così, quanto pare inciampa e cade ma che sfiga eh ma che gran sfiga e nel frattempo mi chiudo la finestra perché non vedo nulla ed è caduto e quindi suppongo dalle mie previsioni che è caduto nel mondo dei mostri esatto ma guarda che palese ma dai bene bello sono felice bene undertale bene ragazzi si e ben ritornati ragazzi in questo nuovissimo video siamo su undertale non chiedetemi come non chiedetemi perché non chiedetemi quando ho scaricato undertale allora istruzioni non mi interessa adesso possiamo clicca e scrivere il nostro nome allora a n o no no nino allora dove sta la n n i n dove la o no la o voglio la o o no aspetta vabbè basta non c'ho voglia di scrivere nomi fatto via si nino via allora ragazzi intanto voglio solo dirvi ringrazio anche fracca che è stato lui che mi ha aiutato a scaricarlo a scaricare codesto gioco l'ho improvato un pochino l'inizio un pochino almeno per vedere se funzionava non era fake se volete anche voi scaricare il famigerato undertale per tablet dobbiamo arrivare minimo 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 35 like 35 like e vi lascio nel prossimo episodio di undertale perchè io intendo finirlo sto gioco finirlo in tutti gli episodi ehm finirlo 35 like link in descrizione di come della pick up o quel che no è non me lo ricordo cos'è vabbè link in descrizione e continuiamo il gioco allora come prima cosa vi dico subito non sarà editato sto video perchè non pubblico da 10 giorni a quanto pare di giochi e volevo pubblicare veloce non ho voglia adesso entri a no salve io sono flaui flaui il fiore hm sei nuovo nel sottosuolo nè vero pebacco devi essere così confuso qualcuno deve insegnarti come vanno le cose qui intorno suppongo ti crea il caro vecchio me allora pronto cominciamo allora la cosa che mi dispiace tantissimo è che non ci che siccome il gioco è passato da pick up la mia apps cioè in realtà direttamente dal tablet non sente l'audio cioè l'audio del gioco cosa che mi dispiace uno sproposito però vabbè vedi quel core e quel core quel core allora è la tua anima è il culmine del tuo essere si si la tua anima parte debole ma puoi rafforzarla se guadagni molto lv per cosa sta lv ovvio per love non credo stava per livello va bene vuoi un po' di amore vero no non da te almeno non preoccuparti ne dividerò un po' con te no ho paura di questo fiore allora qua giù il love è condiviso con candide candide pallottole di amichevolezza sei pronto spostati prendine no io non le voglio non le voglio io non le voglio ehi amico le hai mancate riproviamo ok no io non voglio non voglio queste pallottole vai là ok si sta arrabbiando un pochino è uno scherzo sei ritardato vai contro i proiettili ma io non voglio morire io non voglio morire sapevo sapevo che era una trappola idiota in questo modo o sei ucciso o uccidi o sei ucciso perché qualcuno perderebbe una simile challenge no no crepa come crepa o cosa o no 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 pietà io non le sono venute nel santo suolo cosa è successo cosa è successo cos'è cos'è chi è questa un altro essere che creatura terribile torturare così un povero giovane innocente ah non avere paura tesoro sono Toriel custode delle rovine passo di ucchia ogni giorno per vedere se è caduto qui qualcuno è bello vedere le cose che è caduto un bel lavoro vedere se è caduto qualcuno sei il primo umano a venire qui dopo tanto tempo vieni ti guido attraverso le catacombe che bel posto di qua no Toriel grazie per avermi liberato da quest'essere immondo adesso distruggerò tutti i fiori che vedo in giro cos'è questo ah l'ombra delle rovine incombe riempendoti di determinazione ah il checkpoint recupero totale HP vai rovine entrata tre minuti vai tre minuti di gioco andiamo avanti questo episodio durerà 40 minuti benvenuto nella nuova casa innocente permettiti di spiegarti come funzionano le rovine sì sì lo so è pieno di di cosi cosi le rovine sono pieni di puzzle antiche fusioni fra diversi diversivi e serrature bisogna risolverli per passare da una stanza all'altra il peggio il ti prego di ti prego di adattarti alla loro vista grazie signorina Toriel ma come cavolo ti chiami per proseguire dovrai attivare i vari interruttori non preoccuparti ho etichettato quelli che devi azionare no ma che carina ah no che carina allora ragazzi il mio amico cioè frac che mi ha che ci ha già giocato l'ha quasi anche quasi finito mi cioè io so che ha distrutto svariati youtuber io sono una persona molto come dire sensibile quindi non so cosa farà questo gioco su di me quindi splendida sono fire di te piccino guarda mi sto già affezionando passiamo alla prossima stanza dai ma mi sto già affezionando sto gioco io allora come umano che viene sotto suolo potrebbero attaccarti devi essere preparato per queste vai a quel paese tuttavia non temere la procedura è semplice quando incontri un mostro entrerai in uno scontro mentre sei nello scontro conservaci amichevolmente conversaci amichevolmente prendi tempo io vero a risolvere il conflitto esercita di parlando con quel fantoccio i fantocci servono a picchiarci non per parlarci scusa hai incontrato il fantoccio ok allora fantoccio parla parli al fantoccio ciao non è un chiacchierone a quanto pare vabbè torre sembra soddisfatta hai vinto ma che bello ah molto bene davvero molto bene ma dai ma non ho fatto niente allora c'è un altro puzzle in questa stanza chissà se puoi risolverlo vai vai toriel oh cara amica mia vabbè andiamo verso nuova ventuno cosa ho trovato ranocchio ti attacca no ranocchio ti attacca ranocchio complimento allora minaccia no dobbiamo essere sempre amichevoli per complimento ranocchio non ha capito che hai detto ma ne è comunque lusingato ma come come lusingato scusa grazie toriel che è venuta già qui hai vinto altre monete ma che bello ma dai allora toriel toriel devo superare il coso toriel questo è il puzzle ma ecco prendi una mente la mia mano no che carina lo fa per me puzzle ma che carina eh vabbè sono pieno di spine grazie toriel lei mi salva la vita se fossi andato da solo sarei morto crepato male tante volte tante volte che carina toriel i puzzle sembrano un po' pericolosi per ora ma che carina toriel sei stato bravissimo finora tesoro mio tuttavia ho una richiesta difficile da farti vorrei che percorrissi tutta la stanza da solo vabbè dai non è che è difficile perdonami per questo sono come mai scusa signorina toriel non mi lasci sono sono pauroso però una cosa ragazzi che non ho ben capito ma sono un simpson cioè raga sono giallo sono letteramente sono palesemente un simpson un simpson cinese poi ragazzi cioè andiamo avanti quanto è lunga sta stanza madonna vabbè un'eternità dopo dai dai ci siamo va toriel buongiorno eri dietro una colonna saluti teroso teroso tesoro non preoccuparti non ti ho lasciato ero semplicemente dietro questa colonna tutto il tempo madonna grazie per esserti fidato di me tuttavia ho avuto una ragione importante per questo esercizio mettere alla prova la tua indipendenza ah ok devo occuparmi di alcune cose dovrei restare solo per un po' resta qui per favore è pericoloso esplorare da solo sai che pericoloso eh ho un'idea ti darò un cellulare ci sono i cellulari nelle rovine se ti serve qualcosa devi solo chiamarmi fa il bravo va bene sì 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 faccio il bravo col cellulare che mi hai dato posso vedermi i videozzozzi almeno dai c'è google c'è minecraft dov'è il cellulare poi vabbè andiamo avanti ecco già che mi chiama pronto sono Toriel è passato un secondo non hai lasciato la stanza vero no no non l'ho lasciato ci sono dei puzzle che devo ancora spiegarti sarebbe pericoloso andare a risolverli da solo sì sì fai il bravo sì 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 mi lascia in pace Toriel vabbè che sei stata molto carina rotolarti giocosamente tra le foglie ti riempi di determinazione wow quante determinazione otto minuti dai cos'è qua cra cra scusami umano ho dei consigli su come combattere i mostri se agissi in un certo modo o lotti fino ad averli quasi sconfitti potrebbero non volerti più combattere se un mosto non vuole combatterti per favore elargisci gli pietà umano cra ok abbiamo imparato una nuova roba ecco Ranocchio mi attacca devo avergli parlato ma dai vabbè dobbiamo provare questa roba allora complimento Ranocchio non ha capito che hai detto ma è quello comunque lusingato va bene forze ah qua devo schivare ok Ranocchio Ranocchio lasciami in pace Ranocchio sembra riluttante a combattere appunto è giallo vedete che è la scritta gialla quindi possiamo risparmiarlo hai vinto ho vinto due monete ah bene cosa abbiamo qua cos'è dice prendetene una prendi una caramella si vai presa non mi fa mai male una caramella premici per aprire il menu eh non ce l'ho il tasto c c'è soltanto y a e g mi spiace gioco aspetta no che è adesso che mi attacca Ranocchio che mi rompe le palle sai cosa faccio io me ne frego di vincere soldi ok io scappo basta perché c'è il tasto fuggi allora no sono caduto le due porte no di qua vabbè frignolo si avvicina a mansueto posso risparmiarlo di già cioè ma ma che cos'è frignolo mansueto vabbè ho preso la porta giusta poi allora dream pronto sono toril per nessuna ragione in particolare quale preferisci canella o mou si chiamano siamo nel no cos'è il mou vabbè siccome siamo nel mondo dei mostri che preferimmo magari si offende con canella mou dai oh capisco grazie grazie molto come capisco forse era dovevo dire canella o no pronto sono toril di nuovo ho passato un secondo no no di la canella vero So qual è la tua preferenza Ma storceresti il naso se ne trovassi nel piatto Certo certo Capisco non ho detto niente A proposito grazie per la tua Pazienza ok allora Una pietra ho spostato la pietra E si è aperto un vargo Di nuovo ranocchio non mi rompere le scatole Complimento dai che vinco anche qualche soldino Dai che No no mosche Mi sono fatto attaccare No no lasciatemi in pace Mi hanno sorpreso dal nulla Miserabili ranocchio sembra aiutato Ma risparmia E guadagnato un po' di HP Di nuovo pronto Non soffi di allergia vero no Ah perché lo chiedo Nessuna ragione proprio nessuna Click ma è un po' strana eh la signorina Toriels Allora vediamo cosa E qua è pieno di cose rotte Vai di qua Di qua No buco Ho già capito guardate Ho già capito Devo passare tutto così Ok aspettate un attimino Devo ricordarmelo a memoria No mannaggia La mannaggia Signora sei vicino a Mansueto Vattene a quel Posto Ok dai abbiamo capito la strada dai Comunque Rifacciamo Vediamo adesso se ce la faccio Allora Di qua Giù E su Non so se è troppo su Giù Giù No 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 Mannaggia Era più in là No Allora No ma dai frignolo Ma Oh scusimi eh Vai a incontrare Cosimo Che è più amico Chi è Cosimo voi scusate Perché mi è venuto in mente sto nome Perché mi è venuto in mente Non lo saprò mai Va bene Allora andiamo di qua Di qua Giù Bravi Giù Vai Vai Ce l'abbiamo fatta Pietre Da spostare No ma dai Chi sono sti mufogeni Via Fuggi Non ho voglia Sono due poi Scusatemi eh Allora Ecco qua E l'ultima pietra Ehi là Sciocco Chi ha detto che potevi spostarmi Ma pietra Ma scusami Eh Quindi mi chiedi di spostarmi Eh grazie Devo passare Ok solo per te Zuccotto Bravo Un po' più in là eh Eh Vuoi che mi sposti un altro po'? Eh va bene Va bene così No non va bene così Più in là Eh E la riduzione è sbagliata Ok credo di capire Grazie 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 pietra Grazie Molto gentile È stato utile Sì sì Molto utile Sì molto utile Ne Ne Oh pietra Schifosa Eh Volevi che ci restassi Ci stavo per crepare male Maledizione a te pietra Ma porca miseria Mai fidarsi delle pietre Anche se sono gentili Stremufogeni Ma mi prendete in giro Mandate via Allora Checkpoint Vai Sapere che un giorno Il topo potrebbe uscire Per prendere il formaggio Ti viene pieno di determinazione Ma che significa Con questa cosa Ma Cos'è Non mi lascia passare C'è un fantasma Fantasma Z Z Z Z Se ne c'è andata Z Il fantasma Consiglia di dire Z Ripetutamente Fingendo di dormire Schifoso Lo sposti con la forza Sì Ecco Napstolblock Allora Le musiche di sto gioco Le amo Purtroppo Vabbè Forse riusci Magari un giorno Riesco Magari con l'editing Riescirò a metterle Magari Napstolk Flirt Non so che significa Rallegra Che sembra un po' tristi Hai sorriso Parzialmente a Napstolk Eh eh No Devo schivare le cose No 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 Oppa Mannaggia No Mannaggia Napstolks Napstolk Sembra stare un po' meglio Ok Rallegra Rallegra Hai detto una battuta Napstolk Eh eh Non me la sento proprio Cosa non te la sento Mi spiace Ok dai Non spreco vita Grazie Rallegra Sembra aver migliorato L'umore di Napstolk Rallegra di nuovo Vai Napstolk Vuole mostrarti qualcosa Cosa Fammi provare Cosa sta piangendo No cosa sta facendo Lo chiamo Gentiblock Beh bello Ti è passo un cappello Ti piace Sì Sì dai Ci sta Dai Ci sta Ci sta Oh cielo Cielo cosa Di solito vengo nelle rovine Perché non c'è nessuno Ma oggi ho conosciuto Una persona simpatica Oh Parlo di nuova vanvera Mi tolgo di mezzo In verità sono Un cinese Simpson Però va bene Dai andiamo avanti Altre rane Che non ho voglia Voglio andare avanti Non ostacolatemi Vi prego No Dream di nuovo No Ti prego Toriel Ho appena realizzato Che da un po' Che non riordinavo Vabbè dai Questa cosa Va la saltiamo Dai Non ho voglia Dicevi ordinare Prendere oggetti Dai Allora C'è un cartello Un attimino L'ho saltato Un attimino Allora C'è solo un interruttore Devo trovare un interruttore A quanto pare In questi tre No Chi è Chi è Sguardo Se si avvicina Bulleggia Non bulleggiare No voglio essere gentile Questo gioco Qualcuno mi capisce Sì Dai Ti capisco Sì ti capisco No no Ok dai Sguardo ti fissa Risparmia Vai Ho vinto un po' Di soldi Cinque monete Allora Quale delle sei Andiamo Di culo Vai Ma non ci credo Ma non ci Che fortuna schifosa Che ho Ho la fortuna schifosa Incredibile Dai Allora Interruttori Interruttori Strani Andiamo avanti Interruttori Altri Li è chiuso Che abbiamo qua Se riuscite a leggere Pingate l'interruttore blu No Mannaggia Sguardox Allura Non rompe Qualcuno mi capisce Qualcuno ti capisce Però dopo un po' Ti bulleggio No Dai Sguardox Ti capisco Però non è che mi devi picchiare Ma mannaggia Allora Il blu dovrebbe essere questo qui Vai È un interruttore Lo premi Sing Vai Andiamo avanti Andiamo avanti Altri interruttori Che abbiamo lì No Fammi passare Se riuscite a leggere Pingate l'interruttore rosso Bene Andiamo Interruttore No Sguardox Hai rotto le Madonna eh Vabbè che mi fai farmare un po' di soldi No 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 Porca miseria Anche a me però Non ci sono a giocare bene Sguardox Ti fissa Io ti picchio Madonna Se mi stai a rompere Pingate È un interruttore Lo premi Sì Vai No 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 Senti un clic Grazie Andiamo avanti Dai andiamo di culo Senza nemmeno leggere Vai Qua C'è un interruttore Lascarti solo così a lungo Vabbè Madre Adesso ti chiamo madre Vabbè ormai È stato irresponsabile Cercare di sorprenderti così Ma dai ma cosa Beh suppongo di non poterlo più nascondere Vieni piccolo Nascondere cosa Nascondere cosa Ah 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 Ecco qua Checkpoints Allora Vedere una cosa così graziosa e ordinata nelle rovini Ti riempie di determinazione Sono passati 18 minuti No 20 sono passati Che 18 Senti questo profumo Sorpresa È una torta a moe e cannella No tutte e due Pensavo di festeggiare il tuo arrivo Voglio che ti trovi bene qui Quindi per stasera Eviterò la torta di lumache No ma come Ecco una Un'altra sorpresa per te Cosa No ma che carina Che carina Ci siamo No che carina Cos'è Una stanza tutta tua Spero ti piaccia No Ma dai mi sta pure accarezzando Ma che carina Brucia qualcosa Fa come se fossi a casa Ah sì La torta La torta Non farla bruciare Che buona Abbiamo Oh che bella La stanza La stanza da gaming Dove è il mio pc No mi ma Va bene Nemmeno qua c'ho il pc Ma mannaggia Una scatola di scarpe Per bambini Di varie grandezze Come grazie Va bene Che belle cose Guarda quanti giocattoli Non ti interessano Non ti interessano affatto Ma che razza di persona sono Sono un Simpson cinese Depresso Allora qua c'è un coso Cos'è qua Una cornice vuota È tutta impolverata Dovevano esserci i manga A me non Vabbè Luce Si spegne E chi chiude Vai bene Possiamo andare a dormire Ma sì Andiamo a dormire Che sono stanco Sinceramente Vai Andiamo a dormire Ah Tre anni dopo Sono andato in letargo No la torta Hai trovato una terza Una fetta di torta A moe cannella No Ma che carina Allora Accendiamo la luce Andiamo Signorina Oh madre Oh madre Vieni qui Dove stai Cos'è aspetta Voglio vedere un attimo qua Aspeccata Vediamo un attimo Cosa c'è qua È inquietante qua Non c'è È uscita E' andata via No C'ho Toriel Penso che invece Dovresti giocare di sopra Come Cosa Così Mi lasci così Toriel Allora Toriel No 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 Io vado a vedere No 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 Toriel non mi fermerai Nasconde qualcosa Toriel È pericoloso giocare qui Come è pericoloso Cosa c'è qui Toriel Nascondi qualcosa Toriel Cosa mi stai nascondendo No Qui c'è corrente Ti prenderai una freddore Ma Naggia te Non c'ho il covid Ma Toriel ti devo parlare un attimo Toriel Adesso un attimino Ne parliamo Allora Toriel Allora Già sveglio Eh sì sì Mi hai visto prima I discorsi in sto gioco A volte forse sono un po' Vabbè Voglio che tu sappia Quanto sia lieta di vedere Vabbè Ci sono molti vecchi libri Che vogliono Vabbè qua parla di libri E che Potrebbero piacerti In realtà forse Però Sono continuo a vedere Vabbè Contento Vabbè Ah volevi dirmi qualcosa Cosa c'è Allora Com'è quando torna a casa Così schietto No scusa Non posso dirglielo così Guarda lei che c'ha pure gli occhiali Stava leggendo un libro di lumache Non posso dirglielo così dritto Ma no Vabbè Niente Scusi Scusi Parli di nuovo se ti serve qualcosa Sì 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 Mi scusi eh Non volevo No no dai Dissiamolo Se no non vado avanti con la trama Oh ciao Volevi sentire del libro No non sto No 72 Sì No no Allora Come uscire dalle rovine Dai è un po' cambiato È più è più è più ma un sueto Che dire come torno a casa Eh Che ne dici di un fatto Di un fatto sulle lumache No no Devo sapere come si torna a casa No ho schiacciato Cosa c'è Come uscire dalle rovine Devo fare una cosa Resta qui Dove Toriel cosa mi nascondi Maledizione Cosa mi nascondi So che sei andata qui sotto Lo so che sei andata qui sotto Nascondi qualcosa Toriel Tu nascondi cose Madre Desideri sapere come torna a casa Non è vero Davanti a noi Giace il confine tra le rovine E sapevo io Uno sito a senso unico Per il resto del sottosuolo Maledizione a te Toriel Perché mi nascondi Vuoi lasciarmi qui La distruggerò Ma come la distruggerò No cosa Scusate C'è un po' di naso tappato Scusate Se senti Vabbè Nessuno potrà mai più andarsene No Oh scusa Io voglio tornare dai miei veri genitori Oh Ora fai il bravo E va di sopra No Toriel No Non osare farmi questo Toriel Madre Seconda madre adottiva Guarda sei anche un po' Arrabbiato Già più offesa Allora Ogni umano caduto qua giù Incontra la medesima sorte L'ho visto accadere di continuo Vengono Partono Come muoiono Bambino ingenuo Se lasci le rovine Quella persona Asgore Si uccide come Asgore Chi è scusa Mio nonno Ti sto soltanto proteggendolo Capisci Vai in camera tua No 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 Ho detto no Toriel Allora non posso Non tentare di fermarmi E' il tuo ultimo avvertimento Ai 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 Cosa faccio Vabbè dai andiamo No Toriel Oh madre Ci tieni così tanto a partire Guarda è già più incazzata Sei proprio come gli altri C'è solo una soluzione Prova il tuo valore Provami di essere abbastanza forte Da sopravvivere Allora Frack mi ha detto Decisamente Fai prima La 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 Fai la pacifist, quindi non usare mai il tastolotta Così appunto mi ha spiegato il mio amico Toriel va alla strada Allora Io non ti ucciderò, oh madre Ma spero che nemmeno tu mi uccida Risparmia, no Aspetta, no Madre, allora pietà, eh Ma quanto di me ha già dato 12 Toriel ti scruta, risparmia Io non lotterò, oh madre Io non lotterò, no, non lotterò No, mannaggia Ma Toriel, ma son già morto, ma dai Iniziamo bene Iniziamo molto bene Iniziamo bene No dai, ma quanta No, fermo, stoppo il video Ok, sono arrivato qua al punto Della tizia, lì Allora, cerchiamo il check point qua Perché se no ho dovuto rifarmi letteralmente Tutta la roba Madonna Allora, ritorniamo Allora, andiamo qua Saltiamo ovviamente tutti i discorsi Signorina Toriel Lei non mi fermerà Non mi fermerà Non mi fermerà Non ci riuscirà No, io sono un bambino Vabbè, ingenuo Come creda lei Ma madre Io devo passare Io devo Devo farlo E spero che lei Non mi uccida Anche stavolta Grazie Speriamo Anche Speriamo Ci tieni così tanto a partire Allora, a quanto pare La cosa che ho scoperto È che la torta al mou Che mi ha dato Mi cura gli HP Risparmia, vai No, madonna Oh mio Dio Dai, dai Dai, no Mi ha preso una volta Vabbè, mi ha preso una volta Toriel ti scruta Vai Mi ha preso una volta No, ok Dai No, mannaggia Vai Vai Mi ha preso soltanto Toriel ti scruta Dai, risparmia Ha fatto i tre puntini No Toriel Vai Grande No Mannaggia Toriel Toriel sta profondamente Va bene Aspetta, cos'è Most car Cos'è il most car Non lo so Risparmia Vai No Toriel Non ci riuscirai Toriel Non mi fermerai Gli torta Mangia la torta al mou Bene Grazie Torta al mou Dai 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 Vai Toriel prepara un attacco magico No Io ti risparmio Ma che cosa fai Sì Sto facendo Sto facendo ciò Io non voglio ucciderti Oh madre Sei stata troppo carina Mi sono già affezionato troppo Attacco o scappa Attacco o scappa No madre Non farò cosa Non sarò Io non sono cattivo Toriel ti scruta Sì sì Cosa vuoi provare così No ma dai Toriel fa la scontrosa Risparmia Combatti o vattene No Mannaggia 4 HP Basta No 2 HP Toriel prepara un attacco magico No no Non guardarmi in quel modo Ma Aspetta 2 HP Ma Non mi prendono più Si schivano i cosi Oh Risparmia Vattene No non me ne vado madre Io devo passare Sono la Ma non mi attaccano più Guardate Ok almeno sappiamo già Toriel prepara un attacco magico Oh No 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 Fai tre puntini Quel che vuoi Ma io devo passare Ma prendetemi Ma guardate Mi schivano Si vede che lei Si vede che quando ho 2 HP Lei mi Mi risparmia E già guarda Il faccino di Toriel E già così No Toriel Io ti ho già detto Io devo passare Toriel prepara un attacco magico Col cavolo So che vuoi andare a casa Ma Ti prego Ora vadi sopra No Madre Ho detto no Prometto che avrò cura di te No madre No ho detto di no So che abbiamo Che non abbiamo molto Toriel Allora Bi pietà eh Se qui possiamo Possiamo vivere bene No Io devo Sono la resperanza Di mondo Di mondi Preparare Perché rendi tutto Così difficile E lo si Rendo difficile Rendo Rendo Va di sopra Dai No Ho detto di no Porca miseria Guarda il faccino È già triste Lo so Ma cosa ridi Patetico Vero Non posso salvare Neanche un bim Ma che salvare Io sono Una persona potente Allora Mi fai passare No Ho capito Quaggiù Saresti solamente Infelice Oh finalmente Grazie a Dio Le rovine Sono piccolissime Quando ti abitui Non farebbe bene Crescere in un posto Come questo Le aspettative La solitudine La paura Per te Tesoro mio Le terro via Oh grazie a Dio Se davvero Desidera lasciare Le rovine Io non ti fermerò Tuttavia Quando partirai Ti prego Di non fare il ritorno Oh madre Spero che tu capisca No Mi è pure abbracciato Ma che carina No dai No ma che carina Che carina che è stata Addio tesoro No Toriel No Toriel Per favore Non fanno questo No che carina Addio Toriel Sei stata veramente Una grande madre Va bene E così andiamo avanti E va bene Proseguiamo Verso una nuova avventura Andiamo avanti Allora dai Che cosa ci aspetta Allora io credo Che mi potrei anche Fermare qua Lo so che non c'è il checkpoint Quindi continuo il video Però in parte Nell'altro episodio Quindi forse possiamo Anche fermarci E... Flaue Astuto Molto astuto Ti credi tanto furbo Vero? In questo modo O uccidi O sei ucciso Ma che schifoso Pezzo di schifo Così sei riuscito A giocare Secondo le tue regole Omanarca Non progetto il regicidio Questo è molto più interessante Faccio pure i doppiaggi Perché siccome non ci sono i suoni Quindi Maledetto Flaue Maledetto È l'antagonista principale Flaue Schifoso Pezzente Ok Io direi di fermarci qua Siamo già nel secondo mondo Undertale Dai no vabbè Che figata Semplicemente una figata BTOB Fox Troppo Troppo bello Mi piace troppo Undertale Veramente Io non so cosa farò Nella genocide Cioè Piangerò 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 Veramente Siamo già nel secondo mondo Eh ragazzi Io Continuiamo in un nuovo video E continuiamo nel prossimo video Ci vediamo Valalla Ciao 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 Non so se continuare adesso Ma Ma sì Almeno arriviamo al checkpoint Così non devo continuare adesso Dai Scusate se sono un po' indeciso Ma vabbè dai Almeno vediamo cosa troviamo Dai Allora Un ramo Si è Si è spaccato dopo il ramo Quando Vabbè Va bene Va bene Cose strane Lasciamo perdere Andiamo avanti Allora Almeno abbiamo trovato Dobbiamo trovare il check Ho visto qualcosa Ho visto L'ho visto No no C'è qualcuno che mi segue No no C'è qualcuno che mi segue C'è qualcuno che mi segue L'ho visto Ho visto Ho visto L'ho vista Non si muove più Aspetta Sento dei passi Ecco chi è No aspetta Chi è Aspetta Aspetta Oh mio dio Ma quello Aspetta la conosco Sta sagoma Umano Non sai come si saluta Un nuovo amico Come nuovo amico Girati e stringimi la mano Chi sei? Mi sembra di conoscere la tua sagoma Oh mio dio Sì vabbè Mio fratello Papyrus È un fanatico della caccia di umani Ahia ho paura adesso E in realtà C'è questo Credo sia quello laggiù Ho un'idea Passa per questa specie di cancello Sì Sì attraverso Il mio frà Il mio frà ha fatto sbarri troppo larghe Oh ma sens Oh mio dio E sens Il mitighissimo sens Presto dietro quella lampada La forma conveniente Come forma Ma 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 è perfettamente la mia forma Ma dai Ecco Papyrus Bella fra Bella un carno Fratello Sono passati otto giorni Tu ancora non hai Ricalibrato i tuoi puzzle Se ne stai fuori dalla Guardiola E basta Ma cos'è che fai? Fisso questa lampada È bella forte La vuoi guardare? No Non ho tempo per queste cose Questo Vabbè E se passassi un umano di qui? Voglio Voglio essere pronto Lo farò io Devo farlo io Io catturerò un umano E allora io Il grande Papyrus Avrò tutte le cose Che più mi merito Rispetto Riconoscimento Potrò finalmente entrare Nella guardia reale La gente chiederà Di essere mia amica Sguazzerò In una doccia di baci Ogni mattina Forse questa lampada Ti aiuterà Eh sì ci sono io Sens Non sei di aiuto Per pelandrone Ma ci sono io Ha ragione Sens In verità Vabbè Non fai altro Che star seduto A stervi Parola Che non riesco a dire Sei sempre più brigo Ogni giorno Che passa Ehi Vacci piano Oggi ho avuto Troppo lavoro Da fare Schele Schele troppo Sens Sens Fai schifo Madonna Sens Su via Stai sorridendo Ma no io no Sì è l'odio Sing Perché una persona Grandiosa come me Deve fare tanto Per avere un po' Di riconoscimento Wow Sembra che tu Stia davvero Lavorando Riducendoti all'osso Basta Sens Ma dai Quelle stai battute Vado a occuparmi Dei miei puzzle Quanto al tuo lavoro Vacci un po' di Un po' di Spina dorsale Ecco alla fine Ha imparato anche lui Ha fatto l'ultimo sorriso Ok puoi uscire ora Grazie Grazie tantissimo Sens Ci sposiamo domani mattina Sens io ti amo Me ne frego Perché non so nemmeno Se sono maschio o femmine In sto gioco Me ne frego Nemmeno lui Non si sa cos'è Dovresti andare Potrebbe tornare E se torna Dovrai assorbiti Altri mie spassose battute Spassose battute Spassose squallibere In realtà Odio seccarti Non mi potresti fare un favore Qualsiasi cosa Stavo pensando Ultimamente mio fratello Un po' giù di corda Non ha mai visto un umano E vederti lo rallegrerebbe Tranquillo Non è pericoloso Eh si si Ciao Anche se ci prova Grazie molto Io vado avanti Anche se ci prova Cosa Ma sei fuori Ecco il check point La comunità di quella lampoda Ti riempio ancora Di determinazione Bene Ci fermiamo qua 30 minuti Anzi che sto dicendo 40 minuti Di video Pubblico subito il video Perché non vedo l'ora Eh ragazzi È bello Cioè mi piace tantissimo Undertale 35 like Chi è che mi attacca Schiocchietti di neve Non rompermi le palle Eh Va bene Restiamo in family Fender Ragazzi Ci vediamo al prossimo video Eh 35 like E vi Like 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 Nike 35 nike E ci vediamo Al prossimo video E link in descrizione Ciao Ciao